Per ogni anima tagliata, di amore e sangue, di pietre e coraggio A poco sono, per non navigare sui campi più grandi Per ogni ritorni, quella bellezza resta in una mano E adesso, che non rispondi, fa più rumore nel silenzio e il tuo pensiero Che tu da lì, mi sentirai, mi sentito Io non ho paura Io non ho paura Io non ho paura Io non ho paura Buongiorno, noi non abbiamo paura, ma iniziamo subito a riportare Bene, buongiorno a tutti Sono molto contento e anche sempre emozionato Quando vedo tanti cittadini e cittadine, tanti italiani Che vengono a questi nostri incontri ogni giorno In ogni tappa che sto facendo per l'Italia, sempre più numerosi E' sempre più numerosi perché ho capito che nonostante la censura a cui siamo stati sottoposti Dai grandi organi di informazione, soprattutto televisivi E certe anche manipolazioni dell'informazione e di alcuni quotidiani Ieri ad esempio, così per la cronaca, ho partecipato a Milano All'assemblea della FIU, dove sono stato accorto da molti applausi Il giornale mi ha portato solo un vischio che è venuto da un militare di un partito Della, diciamo così, sinistra ufficiale Che voleva esprimere il suo disappunto Perché mi l'ho permesso di criticare alcune scelte Del centro sinistra, una scelta da poco Perché ho sostenuto il governo molti sino a qualche giorno fa Ma quello che credo sia importante è proprio questo La vostra partecipazione, la partecipazione di tanti Non tanto e non soltanto per sentirmi, per sentirci Per sentire che in Italia vogliamo Ma io credo che sempre di più mi sono Mi convinco ogni incontro in cui partecipo Che è un momento in cui voi venite Non solo per ascoltare noi, ma per farvi ascoltare E noi siamo qui per ascoltare voi Non solo per raccontare l'Italia che noi vogliamo E quello che vogliamo costruire Perché la forza La novità Di rivoluzione civile È proprio questa Noi Vogliamo essere una casa Che è una casa aperta Ai cittadini Una casa aperta Soprattutto a coloro i quali In questi anni Si sono allontanati Delusi Della politica Sfiduciati Certi Che non potesse cambiare nulla Invece noi Vogliamo Crediamo E siamo certi Di poter offrire Uno strumento Per cambiare le cose Guardate Avete visto Vedete Ogni giorno Gli scandali Che stanno Divorando Il nostro paese Una Una Casta Di corrotti Di Corruttori Dove si incrociano E si sostengono E si proteggono La vicenda Un Centro Politico Ormai giunto Al capolinea Vecchio Che parla Un vecchio linguaggio Che continua a parlare Di Impolitichese Di accordi Coalizioni Fatti di desistenza Inciuci Di tutti i generi E Una classe Di manager Di imprenditori Che pensa Ad arricchirsi Ad autopromuoversi Indisprezzo Degli interessi E dei diritti Nostri Dei cittadini Senza diritti Detroppando L'ambiente Distruggendo L'economia Scaricando La crisi Finanziaria Sui Cegli Mediobassi Noi Stiamo Noi Stiamo Sul Ciglio Del Precipizio Ebbene Non Prenderci A giro Stiamo Per Essere Ingoiati In un vortice Che è Una crisi Giunta Alla fine Che è una crisi Purtroppo Che si muove Sul più Sul più Versanti Perché è una crisi Economica E finanziaria E una crisi Politica E istituzionale Ed è una crisi Etica E morale E noi Se non Affrontiamo Tutti e tre Questi aspetti L'aspetto Etico Morale Innanzitutto Che è collegato Quello politico Istituzionale E quello Economico Finanziare Non ne verremo Fuori E Questo E bene Che ne siamo Consapevoli E dobbiamo Essere Consapevoli Di un'altra Cosa Che Questa Classe Deligente È una classe Deligente Incapace Di Di riformarsi Perché Non ha nessuna voglia Di rinnovarsi E l'unica Possibilità Che abbiamo Di salvare Noi stessi E il paese E di cacciare Via Questa Classe Deligente Quindi Verrate Questa Classe Deligente Non potrà Andare via Soltanto Grazie A Una Magistratura Che Si sta Impegnando La magistratura Che in tutta Italia Con la schiena Di vita E applicando Il principio D'uguaglianza Sta intervenendo Su tutti gli Scandali Politici Finanziali Societari E così via La magistratura Da sola Non può Salvare Il paese Il paese Può essere Salvato Soltanto Da Davoli Dalla stragrande Maggioranza Di cittadini Onesti Che è rimasta Fino ad oggi Ai margini Delle stanza Del potere E allora Occorre Semplicemente Dare una Spallata A questo sistema Rompere Questo sistema E mettere Nelle stanza Del potere I cittadini Che fino ad oggi Non hanno mai Avuto potere Questo è quello Che fanno La rivoluzione Questo è quello Che fare La rivoluzione A me non piace Usare Toni Da stadio Non mi piace Urlare Non mi piace Insultare Mi piace Però Anche questo Ho imparato A fare In 20 anni Di mia attività Di magistrato A essere Determinato Andare avanti Dritto Per la mia strada E dritto Verso l'obiettivo Quando si individua L'obiettivo Bisogna avere Una strategia Mettere in campo Gli strumenti Individuare L'obiettivo E andare Dritti Al centro Di quell'obiettivo E allora qui La strategia È molto chiara Io per anni Da uomo delle istituzioni Ho creduto Che dentro Le istituzioni Si potesse avviare Un processo virtuoso Dando l'esempio Dalla postazione Dove mi trovavo La postazione Di magistrato Oggi capisco Che non è possibile Non basta più Oggi ho capito Che occorre Semplicemente Mettersi al posto Di questa casta Politica Che non è capace Ma soprattutto Non ha voglia Di cambiare le cose Perché vuole lasciare Le cose come stanno Perché lasciando Le cose come stanno Mantengono Le loro posizioni Di potere E io Dico Io dico allora Che Voi dovete Immaginare Ma Lo sapete Ce l'avete ben chiaro Che la situazione Attuale Di questa casta È come Dentro Un fortino Un fortino Che Dove Ci sono Tutte Gli strumenti Del potere Tutte le armi Apparentemente Più potenti Quelle Grazie alle quali Loro hanno costruito La loro fortuna E la nostra Romina Hanno Hanno il potere Politico Il potere Dei partiti Hanno Il potere Finanziario Nelle banche Hanno Il potere Dei grandi Gruppi Impenditoriali Che fanno Quello che vogliono Da Marchionne Al Gruppo Riva Che sta Cominando La salute Di tanti Italiani E cittadini A Taranto Ma Sono due Casi Due casi Limite Ce ne sono Decine Decine Sappiamo Le problematiche Le problematiche Di fornire Di fornire Di fornire Di fornire Di fornire Di fornire Ogni 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 Territorio Nel nostro Paese Ha le sue Ferite Sono ferite Di cui portano La responsabilità Politica A questo Centro Politico E E Il centro Questa classe Impenditoriale Di grandi gruppi Finanziali Dicevo Potere Politico Hanno il potere Economico Finanziare Hanno il potere La grande Informazione Perché tengono Saldamente In mano L'informazione Televisiva E la grande Informazione Di giornali Allora Grazie a questi Poteri Fino ad oggi Si sono Perpetuati In modo Indisturbato E' Accaduto Però qualcosa Negli ultimi Anni Che questo Qualcosa E' stata La magistratura Che ha iniziato Ad applicare La legge Senza guardare In faccia Gli appartenenti La classe Leggente Perché anche La magistratura Guardate bene In tempi Più lontani Era dentro Con lo stesso Fortino Assediato Faceva parte Con lo stesso Duoco di potere E chiudeva gli occhi E consentendo Che il Genno politico E imprenditoriale Facesse Ciò Che voleva La magistratura E la magistratura Degli ultimi anni Grazie a un processo Di rinnovamento Ha iniziato A scoperchiare Le malefabili Della classe E per fortino Sì c'è la magistratura Ma ci sono Soprattutto I cittadini onesti Ci siete voi E ci sono Tanti Milioni Milioni Di italiani Come voi Che non ne possono più Milioni Milioni Di italiani Che finalmente Si stanno Ribellando E dicono Basta Basta Con questa casta Basta Con queste tricche Basta Con queste giustizie E basta Con questa Procione Allora Vi dico Vi dico Una cosa Che È vero Loro Hanno Questa Loro hanno Questa Questa Queste armi Loro hanno Il potere politico Stigono le mani Loro hanno I soldi Loro hanno La stampa Il giornale Le televisioni Però Noi abbiamo Voi avete Due armi Altre Tanto potenti L'arma Loro hanno Loro La forza Che viene Dalla coscienza Punita E Dalla Loro E Questa E' una forza Che non potete Trascurare Questa è l'energia Dopodiché L'energia Deve essere Utilizzata Per usare L'arma Che è l'arma Più potente Che può Abbattere Quel fortino Ed è semplicemente Il voto L'arma più importante In democrazia Il voto E in questi giorni Di qui al giorno Delle elezioni Questa Casta Faberica Cercherà Di togliervi Anche quest'ultima Arma Che avete Perché Quando cercano Di prendervi In giro Quando Provo Inganarvi Con la truffa Del cosiddetto Voto utile State attenti Perché voi Per noi Vi ricordate Nel momento Nel momento In cui Nel momento In cui Vi dicono Che il voto Utile È soltanto Quello Che hanno deciso Loro Mentre Se voi Fate la scelta Con la vostra Testa Scegliete Un voto Inutile Significa Che vi Stanno dicendo Che voi Dovete votare Come loro Dicono E dare Un voto Che sia Utile Per loro Invece Deve essere Un voto Utile Per loro Esiste Un solo Voto utile Ed è un voto Utile Per gli elettori Non per gli eletti Per i rappresentati Non per I rappresentati Ricordate Il giorno In cui Andrete A votare Ricordatevi Che L'inganno Dal voto Utile Nasce Dal fatto Che hanno Paura Queste Sono le prime Elezioni In cui La casta Ha paura Del risultato Elettorale E hanno paura Perché gli italiani Che voteranno In modo Consapevole Non secondo Le indicazioni Di partito Sono sempre Di più Noi Siamo Della parte Di questi italiani Che pensano Con la loro testa E pensare Con la propria testa Significa Innanzitutto Confrontare Il programma Elettorale Di ciascuno Confrontare Qual è l'Italia Che noi vogliamo E qual è l'Italia Che gli altri Non solo Che gli altri Vogliono Ma che gli altri Hanno costruito Fino ad oggi Perché Due dati Dovete Controllare E verificare Prima di decidere A chi dare il voto Il programma Ciò che si Dice Di poter fare E seconda cosa La credibilità Di chi ve lo dice Quello che hanno fatto Fino ad oggi Perché non si può Dimenticare La storia Di ciascuno E ciascuno Deve essere Responsabile Politicamente Di quello che ha fatto Sino a qualche settimana fa E a me Se Siamo d'accordo E so che siete d'accordo Sul fatto Che il disastro Nel quale Noi oggi Ci troviamo Ha La responsabilità Di due Leader Che si presentano oggi Come candidati Premier Che si chiamano Silvio Berlusconi E Mario Conti Portano la responsabilità Politica Sulle spalle Tutte le formazioni Politiche Che hanno contribuito E che hanno sostenuto L'uno e l'altro Fino ad ora Ho preso tutto Il partito Dei Che ha sostenuto E non possiamo Dimenticarci E non Dimenticare Perché Perché in Italia Purtroppo Purtroppo Fino ad oggi Vige il principio Della Irresponsabilità Nessuno È responsabile Per quello Che commette Berlusconi Berlusconi Riuscito Perfino A costruirsi La sua Irresponsabilità Penale Perfino Per il reato In che ha commesso Bene Noi vogliamo Ricostruire l'Italia A partire dal principio VGT Responsabilità Responsabilità Penale Responsabilità Economica È responsabilità Politica Chi commette E non è politico Scende politica Ne dovete Fai E il conto E il conto È quello Che presenta La mia storia Movendo nel mondo Dovete presentare Il conto A chi è responsabile Di questo disastro E allora E chiudo Perché so che Sono previsti Tanti interventi Anche Giovanni E altri Insomma Il Il punto è Tenete stretto Questo voto E soprattutto Contagiate Contagiate Del vizio Della democrazia Del vizio Della memoria Del vizio Della Partecipazione Tutti i vizi Che sono Le virtù Democratiche Che in Italia Si sono smarrite Recuperiamo La memoria Ricordando Quello che è accaduto In questi anni E chi ne è responsabile La responsabilità E siate anche voi Responsabili Di due persone Perché è un atto di responsabilità Che noi richiediamo La responsabilità Di cittadini Che vi chiamo in causa La responsabilità Di elettori Perché è un atto Importante E quell'arma E quell'arma Noi la possiamo La dobbiamo utilizzare E per realizzare questo Noi dobbiamo fare L'operazione Coraggiosa Che succede? No L'operazione Un'operazione Coraggiosa Di apertura Noi dobbiamo Abbattere Gli steccati Noi dobbiamo Aprire Questa casa Che è Rivoluzione civile A chiunque condivide Questa piattaforma Chiunque condivide La piattaforma Di abbattere La casta E opporsi In modo irriducibile Ai contenuti Politici Portati avanti Fino ad oggi Dai governi Berlusconi E dal governo Monti E per questo Che ho voluto Costituire Una lista Che è diventato Un movimento E un movimento Che avrà E davanti Un lungo percorso Aprendono Questa casa Aprendono Ai cittadini Ai movimenti Alle associazioni Ai partiti Anche i partiti Che hanno fatto Importanti Battaglie Di opposizione Dentro e fuori Il Parlamento Contro le politiche Di Monti E di Berlusconi Perché la politica Si fa costruendo Sintesi Superiori Creando E partendo Anche da realtà Preesistenti Ma costruendo Basi nuove Un movimento Nuovo Come sarà Come deve essere La rivoluzione civile Per questo Introducendo Giovanni Giovanni Fabia Io Saluto a tutti Mi piace anche Salutare Perché l'ho vista Poc'anzi In crocello Raffaella Pirini Che Passato Mi invitò A partecipare A un dibattito Che era ancora Magistrato E che Ho letto L'altro giorno Aver Sostenuto E aderito Alla candidatura Di Giovanni Fabia Se vuoi Vedi anche tu A fare un saluto Così ti conduce Anche Fabia E poi Conseguiamo Gli altri Buoni O gli altri Inizialmente Grazie a tutti Ringrazio Antonio Di questa Sorpresa Ringrazio Giovanni Tutti quanti I candidati E chi si è Conditato In questi mesi Per la buona Riuscita Dell'incontro E di tutta la campagna Di rivoluzione civile Mi sono piaciute Tantissimo Le parole Di Antonio Perché Parla di rivoluzione civile Nel vero senso Della parola Che tutti Possiamo cogliere Cioè i cittadini Forse Forse lo conosco Forse lo conosco Abbastanza Veniamo entrambi Da una storia In cui proprio Chi Usa la testa Usa senso critico Usa La propria Capacità di pensiero Per portare avanti I propri ideali Viene Viene eliminato Inespulso Ma troverà Comunque Il modo Di fare Ciò per Il quale Si è sempre impegnato E per il quale È creduto Cioè Della salute Dell'ambiente Dei cittadini Che loro Deve essere Che passa Adesso Il lavoro E come vi ho detto La salute Sentire parlare Di responsabilità Di responsabilità Politiche È proprio Quello Che io Chiedo A che Cira Presenterà In Parlamento E spero Vivamente Antonio Giovanni E i quanti Anche potranno Essere La presenti E di portare avanti Delle battaglie Giustissime Anche lì Come ben sapete Con il problema Degli inceneritori Un processo Doveva stabilire Se era stato giusto O no Attivarli Autorizzarli E non è giusto Che sia la magistratura Deciderlo Deve essere La politica Non si deve Arrivare La magistratura Perché la magistratura Si concede In rito Atragliato A chi Non si dichiara Colpevole E si basa Solo Su delle carte Può anche Non arrivare A un risultato Giusto E corretto Per i cittadini E quindi Questo Io chiederò Che venga Fatto da persone Proprio come Antonio Esperti In giustizia Quindi Benvenga In magistrato In politica Perché porta Il suo padale Di conoscenza Ci può dare Una mano Per risolgere Per i cittadini Lei che c'è Ora Riccardo Non si vedete Il cittadino Giovanni Non so Quanto sarà felice Che io Lo sostenga Perché sarò Un po' Pressante Quelle cose E vi ricorderò Perché non solo C'è L'inceneritore Abbiamo il problema Dei biodigestori Che stanno invadendo La nostra terra Perché non c'è Una regolamentazione Seria A livello nazionale Né regionale Deve essere Tutto riportato Alla realtà Al territorio Quello che è Veramente Necessario Per il territorio E non per il portito Di pochi Non esiste Che si spacino Dei biodigestori Come un qualcosa Per l'agricoltura Quando in realtà Servono solo Per fare Il conto Di questo L'agricoltura La cosa fondamentale E tenere presente Che anche una città Come Forlì E qui Di nuovo Il contributo Di Antonio È fondamentale È una città Dove comunque Le manfie Sono presenti Le manfie Le manfie Sono presenti Anche Anche Un'avvento La spesa pubblica È incredibile La corruzione È un aumento Della spesa pubblica Andiamo a tagliare Lì Lasciamo stare I cittadini Lasciamo stare La scuola Lasciamo stare La salute Io chiederò Anche a Giovanni Visto che Ormai L'ho già stressato A sufficienza In questi anni Di portare avanti Con coerenza Il discorso Dell'ambiente Della salute Perché vogliamo Che porta a porta Diventi Uno strumento Necessario Su tutta la scala nazionale Per creare Costi di lavoro E creare Salute Salute A fa volta Un ragionamento Del benessere Cittadino È Una riduzione Della spesa pubblica Guadagniamo 4-5 volte Con un'unica stione Che impedisce Di attentare Alla salute Dei cittadini La politica Si deve assumere Le responsabilità Delle proprie scelte Non deve fare in modo Che sia la magistratura A correggerle E qui a Forlì Lo sappiamo benissimo Io ho insistito Assieme a vari amici Nel cercare di portare Antonio Guano Assieme a Giovanni Perché volevano dare Un segno di speranza Per Forlì Che venisse posta Al centro Della funzione Perché è L'esempio di tanti problemi E noi dovremmo essere L'esempio di tante soluzioni E questo grazie All'accordo di tutti Che sosterremo Sicuramente Con i dei progetti Lavoro dei candidati Giovanni e di Antonio Grazie a tutti Buongiorno a tutti Mi fa piacere Vedere una sala piena E vederti in tanti Noi ci troviamo In una campagna elettorale Che è Surreale I tre soggetti Che vediamo Nel TG1 Sul Corriere Tutti i giorni E litigare I tre protagonisti Di questa campagna elettorale E elettorale Sono coloro Che hanno regato insieme Tra l'altro ieri Sono coloro Che oggi si fa la guerra Ma sono quelli Che hanno votato insieme Alla riforma Fornero Sono quelli che hanno votato insieme Il fiscal compact E vorrei partire da lì Perché Ci stanno ingannando C'è un inganno globale Ci stanno facendo credere Che questo Stato Sia fallito E' indubbio che questo Stato A livello dei conti Abbia dei problemi Ma questo non è uno Stato fallito E ci fanno questo tipo di terrorismo Per metterci nelle mani Per secondare i voleri Della finanza internazionale E queste misure Sono semplicemente una scusa Per svendere per i comuni E svantellare lo Stato sociale E noi dobbiamo dire con chiarezza E su questo Siamo l'unica forza Che ha un'idea chiara Coerente E che ha anche delle competenze Sull'interno Che andranno in Parlamento Penso ad esempio All'economista Jacquet Che noi vogliamo uscire Da questa crisi Invertendo la lotta E di qualcosa Che forse è Impopolare Ma io non voglio Tagliare la spesa pubblica La loro spesa pubblica Ci hanno abituato Ci hanno fatto credere Che sia qualcosa di Di sbagliato Di negativo Perché? Perché siamo stati abituati A una politica Che ha fatto debito Per gestire clientele Per fare grandi opere inutili Per creare Dei carattoni Inefficenti Ma se la spesa pubblica Se la spesa pubblica Inutilizzata Per creare Eichetta Per remunerare La produttività L'operosità Dei cittadini italiani Non è Un qualcosa di negativo Noi abbiamo Un rapporto Debito Pelga Del 130% Disastroso Ma anche con questo rapporto Il nostro bilancio È ancora oggi Sostenibile Faccio sempre un esempio Una famiglia Che ha 30.000 euro di reddito E che fa un mutuo Di 7 anni Per 36.000 euro 7 anni A cui non ho lavorato Di costitoli di Stato Non è una famiglia fallita Noi non siamo falliti E quelli che ci dicono Che bisogna uscire Da questa crisi Con più mercato Mi fanno venire dei dubbi Perché Noi oggi abbiamo Delle grandi emergenze E non le risolverà il mercato Io non penso Che il mercato Si metterà A mettere la norma Di sismi Dallo spuolo Io non penso Che il mercato Si metterà A unificare Armiando Tutti i nostri luci E allora Noi possiamo uscire Dalla crisi Se generiamo ricchezza Con una spesa pubblica Intelligente E razionale Quindi non dobbiamo parlare Di tagli Ma di razionalizzazione Possiamo combattere Gli sprechi Ci sono dei modi Possiamo pagliare Spese inutili Cominciando Dalle vergognose Spese militari Ad esempio Che possiamo Utilizzare Questa ricchezza Non Per fare Opere Assurde Completamente Assurde E lì ci vuole Il futuro Del magistrato Per capire Cosa ci può essere Dietro Come la TAR Ma non solo L'Italia piena Di piccole TAR E dobbiamo lanciare Un piano Di piccole opere Abbiamo venuto Inepegolari Ci sono dei carri Di SCAME Abbiamo bisogno Di portare Il nostro territorio E abbiamo bisogno Abbiamo bisogno Di portare Un peste d'Italia Che manca In questo Parlamento C'è un disfrago Bisogno di chi rappresenti I temi del lavoro Di chi rappresenti La questione morale Di chi rappresenti La questione ambientale Questo è mancato Abbiamo avuto Il peggior Parlamento Dal 1945 Ad oggi Nel 2008 È stata espulsa Con una geniale Operazione Di Barca Perfroni Quello ricordato È riuscito È riuscito Col Ricatto Antidemocratico Molto utile A perdere elezioni E a estrar L'opposizione sociale Dal Parlamento E abbiamo pagato Le conseguenze Quindi nel 2008 Estrariamo L'opposizione sociale E entrano le subrette Subrette Dico il meno peggio Perché è stata Mafia Corruzione Massoneria E questo è stato Il punto zero Noi oggi siamo In un momento Che forse È peggio Del 92 Nel 94 C'è una grande voglia Di cambiamento Ma questo cambiamento Non deve seguire la pancia Ci vuole il pericolo Nel 94 Ho avuto la demagogia Il politismo Perlusconiano Ci ricordiamo Un cambiamento Cattopardesco Noi dobbiamo stare attenti Stavolta Dobbiamo fare informazioni E spiegare bene Perché In gloria Ha condotto Una grande operazione Che è stato Un processo Inclusivo Che è un'operazione Di rinnovamento Di cambio di rotta Ma hanno fatto Partendo dalla Costituzione Da qualcosa Che è la base Che è disapplicata In questo Stato Allora Sì rinnovamento Ma anche Grande responsabilità E grande Equilibrio Abbiamo Un'emergenza democratica Abbiamo fatto Un referendum Una cosa fantastica Soprattutto Della partecipazione Non è cambiato niente Noi abbiamo chiesto Che l'acqua fosse Un bene pubblico E la direzione italiana Era chiara Di pubblicizzare Non hanno fatto niente Ci hanno preso in giro Allora Cosa dobbia dire Vogliamo Di pubblicizzare Non vogliamo Ovviamente Lottizzare I mani partiti E questo è un punto importante Voglio dire alcune cose Di questa lista Non ne parla mai nessuno Io abbiamo fatto Una conferenza stampa Alle tre Sui temi ambientali Bellissima Non c'era La creatura Un giornalista E i TG Non hanno dato A lottisti Adesso Arriverò Sull'informazione Noi vogliamo Ripubblicizzare Ma non vogliamo più Lottizzazione di partiti Che noi diciamo Fuori i partiti Da CdA Fuori i partiti Dalla RAI Una RAI Che sta facendo una cosa Vergognosa In questi giorni Che ci censura E ci censura In maniera Veramente chirurgica Perché Io vedo Sempre di più E rispetto a quelli Dice Berlusconi Sono sicuramente contento Ma vedo Sempre di più I cominci di Beppe Grillo A retimificare In tutti i DG E forse Stanno capendo Che il prossimo Presidente Della Commissione Di Vigilante Sarà del Movimento 5 Stelle Perché saranno I partiti Dall'opposizione E quindi Già il RAI Si sta adeguando E chi è oggi Il grande Pico pubblico Di questo sistema Siamo noi Siamo attaccati Da destra Siamo attaccati Da solita Ci attacca Sette Ci attacca Di Dio Un giorno Su un giorno No Ci attacca Con i grandi giornali Noi dobbiamo Dobbiamo essere coscienti Di questa situazione Dobbiamo essere coscienti Perché Sono i suoni Contro tutti E la prima cosa Che dobbiamo fare In questa campagna Elettonale Mancano pochi giorni Dobbiamo Fare informazione Quella che È sparita Sono qui Sono spariti La scomparsa Dei fatti Noi dobbiamo Parlare ai cittadini Non abbiamo grandi mezzi Dobbiamo essere Il tam tam Orizontale Il più possibile Perché Non abbiamo oggi Altri mezzi E quindi Questa sfida La possiamo vincere Solo tutti insieme Questo è E vado a chiudere Il primo E per molti dei tempi Sarà l'ultimo incontro Che io farò Io Con tutti gli altri candidati Qua A fuori È il meno importante Il più importante Sarà quello che faremo Dopo le elezioni Perché Nel demologio Riuscire a fare bene E io credo Nei parlamentari Di talento Che fanno I gruppi solitari No Noi siamo Mandati In Parlamento Da un collegio Dobbiamo rispondere Al collegio Ai tempi del territorio Abbiamo bisogno Abbiamo bisogno Dell'esperienza Del contributo E del dibattito Con tutti Soprattutto con la base Ci sostiene Questa è una politica Quindi io vi chiedo Dopo le elezioni Vi chiedo un aiuto Io Come tutti gli altri candidati Ho bisogno di voi Ho bisogno di essere controllato Ho bisogno di essere sostenuto Per questo Concludo Dicendo Chiedendovi di stare vicino Soprattutto a loro Grazie Ringrazio Giovanni Fabio E prima di passare la parola Peppe Giordano Che tutti Conoscete Un grande Protagonista Della lotta alla mafia In Sicilia E ha collaborato Con tutti i più grandi inquirenti E tutti i più grandi Poliziotti Che si sono succeduti In questa impresa Autore di un libro Meraviglioso I sopravvissuti Prima di parlare Prima di dare la parola A Peppe Giordano Volevo farmi interprete Di una serie Di istanze Che mi sono pervenute Che condivido appieno Volevo ringraziare Antonio Ingroia Per il discorso Che ha fatto Perché Erano anni Per essere uomo Che non si sentiva Un discorso Di questa caratura Morale Intellettuale Etica E sociale Veramente Ce n'era Bisogna Un grande Grandissimo Bisogno Perché è quello Che ci stiamo perdendo Che ci siamo persi Negli ultimi 20 30 anni Adesso non facciamo i conti Perché poi Chi ha meno capelli Lo ricorda bene Questa dimensione Questa dimensione morale Etica Mancava E Rivoluzione civile La sta riportando Al centro Per l'attenzione Sta ricreando Quella tensione Sociale Etica E morale Che Di cui sentivamo La mancanza La sentiamo tutti La mancanza Anche quelli che Danno voti Strani Incomprensibili Pensa Berlusconi Uno dei voti Più incomprensibili Della terra No no Non voglio fare Panale polemica È veramente Incomprensibile Perché Non si capisce Però Siccome siamo in democrazia E pare che anche Il voto di Chiara Dato Berlusconi Valle esattamente Come il nostro Per ora Ce lo teniamo così Quindi ecco Scusate Non volevo togliere Nulla a nessuno Passo subito La parola A Pippo Giordano Ma mi è stato chiesto Di farmi interpretare questo Io ho un po' Piero il concetto Perché condivido Appieno Questo Perché l'ho sentito Mentre parlavo Ero in graia Ce n'era bisogno Pippo Giordano Buongiorno Allora intanto Credo di interpretare Il vostro pensiero Che Anch'io Come cittadino Di Forlì Voglio ringraziare Il dottor Ingoe Dalla sua presenza Voglio ringraziare Il mio amico Che mi ha invitato Da decine giorni fa A fare questo intervento Pasquale Iaconello Che è qui Dicino A che se non è davanti Ho accettato Un mentire Tutto perché Sono legato La stima E fiducia Decipre Con il dottore Ingoia Tra virgolette È stato il mio Dottore di lavoro Io sono stato Un suo operario Un suo operario A costruire La casa Della giustizia E della legalità Insieme Ci abbiamo provato E in qualche maniera Alcune volte Ci siamo riusciti Dicevo Quando la scuola Mi ha invitato Ho accettato Volentieri Di fare Di dire Il tuo parole Qui Affordi Dove io ho lavorato E dove abito Tanti anni Non solo Perché mi lega In modo D'affetto Con il dottore Ingoia Ma perché Sono d'accordo Sul movimento Sul progetto Che L'evoluzione Civile Sta portando avanti Allora Conosciuto il dottore Ingoia In un momento Purtroppo Funesto Per il nostro Paese C'è stato Un incontro Drammatico Perché Perché Settimana prima Che noi ci portassimo A Roma In Italia Si era replicato Un episodio Drammatico La strada Di via del Vino Con la morte Di Paolo Sardino E dei miei Cinque colleghi Di spavolto Applausi 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 Ho conosciuto Borsellino Insieme a Falcone Insieme al dottore Provo Chimici Quando io Facevo servizio Alla squadra mobile Di Palermo Una squadra mobile Di Palermo Diretta Da Niby Cassara Applausi 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 Era un'altra Da due All'inizio Degli anni Ottanti In quell'ufficio La sezione Investigativa Antimale Di Palermo Era composta Da 42 elementi Purtroppo 5 di 9 In maniera Singularmente Sono stata Assassinate La cosa nostra Allora Diceva Dottor Borsellino 17 luglio E non venerdì Per rilasciarmi Alla mia Successiva Conoscenza Con il Dottor Riccardo 17 luglio E non venerdì Avevo Avevo incontrato Nuovamente Dottor Borsellino Dopo quasi 10 anni Che non ci Vedevamo Roma Io Facevo parte Della Direzione Investica Di Lantimale Per la Viglia E 17 luglio Abbiamo condotto L'interrogatorio Assieme A un Benfiso A un Centro Gras A un Minuto E Terminato L'interrogatorio Ci sono Dato L'appuntamento Per il lunedì Oppure Per il Martedì Se fosse Andato In Germania L'interrogatorio Due Mafiosi Ebbene Quell'appuntamento Il Dottor Borsellino Non si è Presentato Perché Vole Sapete Che La domenica E' Successo E' Successa La strage Di Viglia E allora Dopo Quella Strage Che Andavamo Abbiamo avuto prima La strage Di Capace Di 3 maggio Dove In la via Ci siamo Presi Un impegno L'hanno già preso La strage Di Capace Ci siamo Presi Un impegno Costante Di abbandonare Le famiglie Per diversi Mesi Io non sono Tornato Per Forlì Ci siamo Puntati A capofizzo A lavorare Per le Strage Di Capace E per Via D'Amelio Per la Strage Di Capace Ci siamo Riusciti Abbiamo Organizzato Almeno L'arga Militare L'abbiamo Quasi Tutto Organizzato Identificato Ecco In questo In questo Crima In questo Crima Di orrore Si è presentato Un ragazzo Un giorno Poco più Che Trentenne Tant'è che Quando si è presentato Nell'ufficio Per fare L'interrogatorio Con il vendito Indiretto Pornetano Di tutti e due Ravut Che Dito Pornetano Io sono Oricinato Il palermo Non ci siamo Chies Ma Quello Dice Ovvero Chi è Questo Ragazzo Ero Ero Dottore Arboglio Ero 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 Iniziata La nostra La nostra Avventura Un'avventura Purtroppo Un'estate Per me Nel primo Fragice Allora Faccio una Considerazione La prima Repubblica È morta Con D'angentopoli La cosiddetta Seconda Repubblica È nata Col sangue D'innocente D'Italia E sono Molto E quindi Se non Noi Siamo Noi Non possiamo Vedereci Un paese civile Se lo facciamo Justizia Per via La meglio Siamo Un paese civile Noi Siamo La mia La realtà La Diva Si Accattava Un Dottore E Dottore Si Accattava Un Dottore E Dottore 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 E Dottore 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 E Dottore Dottore possiamo entrare nei neambulagri del potere di Roma e tirci e aprirci finalmente quelle stanze chiuse per tanto tempo. Noi abbiamo bisogno di verità, altrimenti non possiamo non ripetereci una democrazia in assoluta trastanza. Io spero che il padre di amici sia dentro le cose che è in grado e che possiamo raggiungere il nostro solo e consentirci al nome di raggiungere traverso il vostro sogno e di darci i sogni che pareti ci hanno abbinato e ci hanno scippato. Io spero che voi ci possiamo. Io spero che voi ci possiamo andare a dare a far dire e non ci devo dire che le nostre moglie e le nostre figlie poter dire che sono orgoglioso che io sono un partigiano della nostra vita. Abbiamo un ospite graditissimo perché non era prevista la sua presenza e quindi vi ringraziamo doppiamente di averci voluto fare questo onore. Michele Lotti, che è il vostro figlio. Oltre a averci voluto il vostro figlio, io vi ringrazio che mi raccoglio a presentarlo perché è una persona di grandissima democrazia morale. Vi invito ad ascoltarlo con molta attenzione perché ogni volta, anche lui che mi è capitato di ascoltarlo, specialmente per altri tempi, mi ha segnato un po' così. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie infinite per questa possibilità. Allora, io sono abituato a parlare in pubblico, quindi di solito non sono emozionato quando parlo di molta tanta gente, ma sicuro che ciò... Diciamo che l'intervento di Pippo Giordano ciò che lo ha toccato tutti noi. Allora, è un onore quindi essere al suo bianco, al fianco di Antonio Androia e di tutti gli altri candidati, perché secondo me l'evoluzione civile sta facendo qualcosa di davvero straordinario. È una rivoluzione. Noi andremo a portare dentro al Parlamento le migliori energie del nostro Paese, cosa che non accade da decenni. Voglio dire di modo molto chiaro, siamo la maggioranza del Paese, le nostre idee sono maggioranza nel Paese, e lo abbiamo visto anche in occasione dei referendum sull'acqua e sul nucleare. Molti si sono stupiti, ricordo, di quel risultato. Io no, io ero tra i pochi passi che sosteneva, che comporta, che avremmo superato i 50, io avevo pronosticato il 54%, mi davano del sognatore, e mi spiegavano gli esperti dati alla mano, perché era impossibile raggiungere quella cifra. Invece io, mi dicevano che sono sempre troppo ottimista. Invece in questa occasione, devo dire, sono stato troppo pessimista, perché il risultato è stato, lo sappiamo, del 57%, quindi è addirittura occulta. E allora io credo che quei 27 milioni di italiani si siano espressi in modo chiaro, non soltanto sullo specifico dei temi acqua e nucleare, ma più in generale su una visione della vita e della società in cui il bene comune deve prevalere sugli interessi privati di fondo. Io non ho mai fatto politica attiva, vengo dalla cosiddetta società civile, anche se queste persone, insomma, non vogliono dare per un civile a nessun altro, preferisco parlare come se di cittadinanza attiva. Da vent'anni sono attivo nel mondo del volontariato, dell'operazione internazionale, con un'associazione, ma in tesi con cui abbiamo realizzato tantissimi progetti di solidarietà in Africa, abbiamo fatto ponte, abbiamo fatto scuole, abbiamo fatto progetti di ricoltura, allevamento, appicinato, abbiamo liberato centinaia di miliardi di bambini sfruttati sul lavoro, dando al contempo le loro famiglie la possibilità, attraverso un microcredito, di avere una vita dignitosa. Poi abbiamo fatto battaglia anche sulla giustizia, non solo di solidarietà, abbiamo portato avanti le grandi battaglie contro l'emminente uomo, le battaglie contro lo sfruttamento del lavoro minoritario della Global March, con 7 milioni di persone che hanno marciato in tutto il mondo e queste marce si sono ritrovate al cinema per chiedere, abbiamo ottenuto dall'organizzazione della strada del lavoro, l'articolo 182 contro le forme peggiori di sfruttamento del lavoro minoritario, che è un risultato straordinario, è uno strumento prezioso delle mani dei nostri partiti del territorio. Abbiamo votato contro il debito estero, all'epoca non eravamo in tanti a farlo, abbiamo difeso qualsiasi da nottelli quando denunciava i trattici delle armi e veniva considerato eversivo. Abbiamo iniziato a parlare per primi in Italia, e lui ci fanno i nostri cugini francesi di attacca, di speculazione finanziaria, proponendo l'introduzione della tua ventassa. In quel momento, perché parlavamo di debito estero, di speculazione finanziaria, eravamo considerati eversivi. Mi sapevo che oggi questi temi si erano entrati un po' nella agenda politica di tutti quanti, eravamo forse solo un po' più avanti, ma non perché la società civile sia particolarmente avanti in questo caso, ma perché la politica è particolarmente indietro, diciamo questo. Allora io penso appunto che noi siamo maggioranza e che se non ci fossero stati questi decenni, la magistratura da una parte, sicuramente, e dall'altra, e dall'altra, tutto l'impegno dell'associazionismo, dei movimenti, dei comitati, di tutta la razza di base, di quei 4 milioni e 600 mila cittadini attivi che hanno tenuto in piedi il paese, nonostante la politica, noi oggi non saremmo qui. Io propongo da qualche tempo una proposta un po' provocatoria. Immaginate se il mondo del volontariato, tutto l'associazionismo, fassesse sciopero. La chiudiamo. Anche solo per una settimana. Credo che risulterebbe evidente il suo valore. Pensate anche solo se facessero sciopero i 200 mila volontari della Croce Rossa. Chi li sostituirebbe? Lo Stato? Il privato? Allora risulterebbe evidente al torbiccio serale di turno l'assenza di un soggetto, che è appunto il terzo settore, a cui rivoluzione civile, sta cercando di dare voce come mai nessuno ha fatto. Allora tutte le migliori elaborazioni del mondo ecologista, del mondo pacifista, del mondo della solidarietà, del mondo della legalità, che sono state per decenni inascoltate. Noi abbiamo fatto conferenze, seminari, incontri, in cui invitavamo regolarmente i politici e facevamo loro tutte le nostre proposte. Sono sempre state inascoltate. Allora adesso abbiamo deciso come andate in grado giustamente. Andiamo. E ce le facciamo noi direttamente. Perché non c'è santo che questi possano rinunciare ai loro primi con i suoi, per dare spazio alla parte sana del paese. Vediamo bene, ci ha rappresentato, ci spero. E la questione di democrazia, io credo molto semplicemente che i disonesti in Parlamento abbiano già la loro rappresentanza, più che altri. E' una questione di democrazia. E allora anche la parte sana, onesta del paese, ha diritto a rappresentare la democrazia. Le proposte non mancano, non voglio dire alcune, in modo molto chiaro, perché bisogna iniziare a parlare in modo semplice e un po' politichese. Dice il Vangelo, si ha il vostro parlare sì, sì, no, no. Non i fatidici, ma anche di Bertogna. No, diciamo dei sì, che siano dei sì, e dei no, che siano dei no. Ok? E allora diciamo sì alla Bertogna. Che colpisca, come prevede la Costituzione, in maniera progressiva chi ha di più. Diciamo sì al condottore di un reddito minimo di cittadinanza, quindi a dignità ai cittadini di deboli, perché ci sono 15 milioni persone in Italia che vivono sotto la soglia di qualità relativa, 3 milioni e mezzo che vivono sotto la soglia di qualità assoluta, 50 milioni a Londres, il 37% dei giovani disoccupati e fra quanti hanno il lavoro più di metà sono precari. Allora le cose devono cambiare, e ora che cambiano. E occorre quindi dire dei sì, chiari e anche dei no, chiari. Diciamo no alle spese militari, alla follia degli H35, dei numerici, ma non è venuto in finito. Comunque per questa città si possono rilasciare due città e sì, in finito, per dirlo i nostri indici di casa, vogliamo sapere, perché la rivoluzione parte dalla verità, bisogna dire la verità. E ancora, vado avanti, le grandi opere inutili, dalla Tau, la follia della Tau, al ponte sullo spread, sono altri 20 miliardi ancora buttati via, potremmo continuare. Ora condivido quanto diceva prima Giovanni, non grandi opere, ma un grande piano di piccole opere, su alcuni temi decisivi. La prevenzione del distinto di un geologico, perché noi sappiamo che quasi il 90% del nostro territorio ha sposto a questo rischio, io sono stanco di piangere di nostri morti, su qualcosa che già possiamo sapere. Einstein diceva che l'uomo intelligente risolve i problemi, ma quello saggio li perdiene. Allora, noi spegniamo invece in questo momento sette volte di più nella riparazione dei danni dal distinto di un geologico che nella loro premettura sette volte di più. Dobbiamo cambiare e penso alla raccolta differenziata dei rifiuti. Il rapporto tra i cederitori di scaliche e la raccolta differenziata è uno a cinque. Nelle discariche di cederitori il rapporto compazionale rispetto a crisi bilazionale è il primo problema di quello di un barsi. 3.000 compagni negli scarichi e i cederitori, da 120.000 e altri 250.000 potremmo crearne e stendendo una raccolta differenziata da tutti. Per i suoi 120.000 posti di lavoro che potremmo creare nel risparmio energetico, ai 200.000 che potremmo creare in interiori nella produzione di energia da fonti rinnovabili di piccola taglia, diffuse, in rete, nelle smart grid, nelle reti intelligenti e non le grandi opere delle multinazionali straniere che vengono con una logica speculativa e non lasciano nulla al territorio e devastano il nostro interno. Quindi i rifiuti, l'energia, la prevenzione del senso ideologico potremmo continuare sono tanti. Invece quello che ha fatto l'ultimo governo sostenuto da tutti, ABC, famoso ABC, ok? È esattamente la direzione a posta, due cose soltanto perché non ho tempo di ricordarvi, già, se già non le sapreste. Il principio del silenzio a sé a senso che è stato introdotto è devastante. Chi fa una richiesta per occupare il terreno di l'attesimo del centro commerciale, eccetera, devono chiedere risposte in tempi brevi. Questa viene considerata positiva e con cui è un regalo ai palazzinari e alle lobby del cemento a quelli lobby che hanno tenuto incatenato nei ultimi decenni il nostro paese. Allora io ti direi una cosa, noi stiamo facendo il governo sa molto bene una camomagna elettorale low cost. Forse hanno un po' troppo low cost. Abbiamo un page nazionale che è più o meno quello che Quartalocca aveva su Bologna. Diamoci conto. Ma io credo che questo sia il nostro punto di forza. perché noi non abbiamo denti con nessuno. Non abbiamo le mani recate dalle lobby. Non dobbiamo vendere le cose. Chi di noi ha trattato il Parlamento ha le mani libere per portare avanti i nostri programmi. Perché sono denti nei confronti che le lobby che hanno finanziato la politica che ci hanno garantitato. Chi riceve soldi dalle lobby degli armi, del cemento, degli inceneritori dovrà rendere conto chi riceve soldi come PD dall'IVA ovviamente non potrà fare altro che una legge porca come sta a barripa. parla di tutte le famiglie che le nati e le elezioni. Mi scuso come sempre che capita se sono troppo lungo. Non ho intorno della sedia. ma io credo che ci sia veramente qui la parte sana del Paese che entrerà per portare tutte queste istanze e queste proposte dentro al Parlamento. È stato cancellato il principio di chi inquina paga. Fare introdotto. Fare introdotto. Chi inquina deve pagare per un risco. potrei continuare ma non è veramente certo che manchino le proposte e non mancano le persone perché noi metteremo dentro al Parlamento Stefano De Boni Presidente nazionale del VUF che vuoi risultare. Claudio Lotti coordinatore nazionale della Paglia per la Pace per la Massa per i Dazzisi il mio carissimo amico la città della Stamazione di Libera al vento di un canale che è l'estensore di un uomo scusami Claudio Lotti sarà qui per lunedì bellissimo non mancate non mancate non mancate per portare la Pace al centro è stata dopo tempo messa a lato rascondendo dietro alle missioni di Pace degli interventi che noi tutti sapevamo di che natura invece fossero. Allora io concludo dicendo soltanto siamo maggioranza nel paese è ora che ce la prendiamo anche dal punto di vista elettorale perché possa avere rappresentanza la parte sana la parte pulita la parte onesta l'unica che forse insieme alla politica e questa è straordinaria la sintesi che è riuscita a fare poi che insieme alla politica che siamo tutta dentro e fuori le istituzioni per il referendum per l'acqua per il lavoro voglio ricordare è stato diciamo annullato quel milione di firme consegnato per l'articolo 8 e l'articolo 18 con una scelta accelerata del Presidente della Repubblica che sarebbero bastati veramente pochi giorni in più per poterli accogliere e invece sciogliendo le camere il 26 dicembre affinché il 2 gennaio ha reso nulle per il milione di firme raccolte dei cittadini e uno dei primi anni di un incremento di una rete che sarebbe in parlamento sarà quello di fare un decreto di un canale di aspirare come è possibile il resto attivo e già ci sono dei precedenti giudici in questo senso che dia meridia validità a quelle firme raccolte dei cittadini grazie a tutti noi passiamo parola perché in tanti sistemi di corattura sono le mani delle robbie e di censura che lo parlano sempre di più allora tutto dipende da noi la nostra passaparola è la capacità di conduce e conduce amici e parenti buona rispettura a tutti grazie mille grazie 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 passo la parola a Leanna Angelini Leanna è candidata al senato ha la sua prima esperienza elettorale prego Leanna vorrei intanto ringraziare tutti voi ma se vi consentite ringraziare il sindaco del rivoluzione civile che sta lavorando da me su un grande passione entusiasmo perché io credo che la militanza sia molto importante e senza questo tipo di lavoro di tutto questo non sarebbe stato possibile quindi davvero grazie applausi 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 l'unica posto con il rivoluzione in grattera deve avermi piazzato dopo Giordano e Totti che mi hanno veramente rovinato per parlare di loro molto più difficile ad ogni modo è qui su questo siamo tutti demagoghi cioè noi di rivoluzione civile siamo tutti demagoghi perché noi abbiamo il pallino delle mafie frittia quindi sono tutti demagoghi perché è impossibile è così impossibile che è veramente molto molto meglio approvare qualche legge antimafia arrestare qualche figura di controllo di contorno lì dal popolo televisivo che si è fatto tanto tanto anche troppo che non si può far via di così perché nel resto siamo in Italia si sa la mafia dura da sconfiggere da un mare antico nel frattempo si ripenalizza il passivo di lancio corruzione per le dissoni e via si cagliano risorse per le forze per le forze di polizia ma noi evidentemente siamo proprio dei demagoghi perché noi la donna è mafie non la vediamo mica così noi la vediamo che secondo una priorità di questo programma elettorale non è l'ultimo posto è il primo è la permessa indispensabile per attuare tutta una serie di misure che sono necessarie per dare di nuovo un po' di speranza al nostro paese che non è abitante e vogliamo in questo accusare proprio di riguardo alle fasce sociali più deboli perché siamo proprio dei demagoghi fin di fondo non ci interessa per tutelare noi vogliamo veramente pensare che i più deboli devono avere molto di più partendo dal lavoro il sostegno alle famiglie la lotta al precariato la cultura la scuola si legge in mano i precari non è così che si manda avanti un paese ma le autentità sociale fiscale lotta agli acquisti di armi la faccia taglia i luci della politica di indio perché noi ci crediamo crediamo che si possa fare no crediamo che si debba fare cioè togliere la linfa alle mafie col vento al cuore tutte quelle serie di trecci tra mafia e potere mafia e finanza mafia e politica detto questo io ho un sogno non vorrei che domani dicessero che mi sono paragonata a Martin e Luther King perché ogni tanto succedono anche queste cose non so bene però un sogno io vorrei che questa lotta alle mafie prendesse in considerazione il problema che trovo gravissimo del gioco d'azzardo patologico legale noi in Italia abbiamo una vista di stato cioè il gioco d'azzardo è legale è legale ma è devastante è devastante per tantissime persone parliamo di cifre esagerate 800.000 dipendenti in Italia ha il gioco d'azzardo patologico il doppio delle tossicodipendenze parliamo di 2-3 milioni di persone a rischio per il gioco patologico parliamo anche di 98 miliardi di euro condonati alla terza industria italiana quella del gioco d'azzardo legale però la terza industria abbiamo dei costi sociali umani altissimi con dei bancarci che vanno allo Stato vanno all'est vanno soprattutto alle lobby che hanno in mano questo mercato soprattutto a loro le ricadute sociali invece sono sul territorio un territorio che è già da più come lì ricordiamo che abbiamo tagliato in 5 anni il 75% dei fondi destinati al welfare che cosa vogliamo fare per queste persone considerando che il gioco d'azzardo va a compiere spesso anche proprio le fasce più debili vogliamo fare qualcosa o no io ho scritto al sito di rivoluzione civile mi chiedendo di averne aggiunto questo punto al programma e questo punto è quello che spero ricordiamo che vicino al gioco d'azzardo insieme al gioco d'azzardo entra la provvina cauda entrata entra l'usura per questo parola di lotta dalle mafie insieme al gioco d'azzardo quindi io credo che sia ora di prenderli come diventi urgenti allora io dico che saremo demagogici però io ci credo e penso che ho un sogno dimostrare che tutto questo si può fare grazie grazie a me buongiorno a tutti buongiorno a tutti lavorativa mi occupo di sono faccia parte di un'associazione che si occupa di questioni legate all'intercultura alla cooperazione alla partecipazione attiva ed è stupendo vedermi così uniti insieme per costruire un percorso comune io voglio parlarvi del tema che a me è più caro e per cui ho deciso di impegnarmi per rivoluzione civile dedicare tutti il mio impegno e il mio forte è la questione europea una questione che ci tocca tutti i giorni e che tocca tanti dei temi del nostro programma che si incasca perfettamente in molti di questi e che può essere la soluzione l'Europa non deve essere più vista come un problema e ci sono tanti motivi vi voglio spiegare proprio in sintesi non dobbiamo più pensare che non dobbiamo pensare che l'Europa sia solo delle banche della grande finanza o del singolo paese dello Stato membro che in quel momento è più forte dobbiamo creare un'Europa che parla dal basso dai suoi cittadini siamo tutti cittadini europei dobbiamo fare la vera questo livello di cittadinanza io sono cittadini italiani mi impegno per la che è il mio Stato ma mi impegno anche per un'Europa diversa un'Europa migliore un'Europa che possa garantirci un futuro io non sono uno di quelli che dice bisogna uscire dall'Europa dall'Europa sarebbe una follia dobbiamo lavorare con un'Europa migliore e vi dico anche perché bisogna riuscire un percorso europeo un percorso che possa migliorare tanti aspetti prendiamo il mondo del lavoro a livello lavorativo dobbiamo creare un nuovo modello sociale europeo un sistema europeo che tuteli i lavoratori non possiamo farci la guerra tra i lavoratori europei questo è fondamentale fiscal combat andare a ricordare quei trattati che stanno che rischiano di sfruttare gli stati l'ambiente politica europea il nazionale il sistema dell'area conversione ecologica dell'economia la guerra e il futuro per uscire più parte dalla crisi giovani io ho fatto una facoltà di scienze politiche e poi lì è una delle migliori in Italia dobbiamo investire sui giovani che possono si formarsi all'estero grazie a voi a te lo previ ma poi non vengo a fuggire prima di in altri paesi che possono tornare a permettere le competenti acquisite a disposizione della crescita dello sviluppo del paese questo è fondamentale di investire sui giovani poi l'ultima questione di economia parlando di fondi comunitari c'è un'Europa buona un'Europa che mette a disposizione dei fondi che possono permettere alle piccole e medie riprese di crescere di investire nel know-how delle ricerche dello sviluppo dobbiamo formare figure che possono reperire questi mogli possono darci una mano quindi parliamo cominciamo a parlare di un'Europa buona un'Europa diversa e il tempo da qui occupiamoci di queste questioni io ho deciso di mettermi di mettermi in gioco e sono fiducioso ho quel serbe coraggio bisogna tirarsi sulle maniche perché siamo stanti delle parole che non vogliamo infatti e secondo me qui in interverso capire quindi un percorso nuovo per i nostri paesi grazie grazie mille produttivo di impegnarsi per cambiare e quindi grazie alla rivoluzione civile ho avuto questa opportunità spero che ce la do ecco quello che mi sento di dire che tante volte mi sono sentita dire ma tanto non si può fare niente per cambiare non mi scusse sia vero perché se partiamo da questo presupposto allora non tervo mai niente e proprio per le noti che hanno fatto i miei seguitori i miei nonni e che faranno che forse i miei figli spienerò ecco voglio lottare non voglio che viviamo al mondo così che non ci piance che non ci appartiene io ho sempre lavorato da quando sono diplomata anche adesso sto lavorando sono scappata dal lavoro per venire qua e sento molto caro il tema del lavoro perché c'è la debilità e questo precariare così diffuso anche la situazione della donna dei contratti sempre così poco favorevoli mi fanno insomma proprio se posso dire questo normale perché voglio rimbarare l'opportunità l'imbagliata la democrazia e allora concludo dicendo visto che tante volte parlando con i miei amici abbiamo detto che ci vuole una rivoluzione con la rivoluzione civile che ci possiamo farla allora facciamo questa rivoluzione grazie 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 secondo nomaso Contepello 26 anni un'esperienza in corso come consigliere comunale del comune di Forlini candidato alla camera deputati innanzitutto buongiorno a tutti prima di dirvi che mi hanno spinto a metterci la faccia e candidarmi vorrei ringraziare voi per essere qui presente vorrei ringraziare il dottor Incroio per aver dato la possibilità creando questo movimento di ridare speranza a voi e a noi ho deciso di metterci la faccia perché questa secondo me è l'unica lista che oltre alla lotta le mafie mette come priorità il lavoro tutti parlano di io e nessuno di come dare nuovamente speranza ai giovani perché in quest'ultimo anno la politica si è riempita la bocca della frase noi lo facciamo per i giovani quando invece ogni provvedimento che ha preso è andato soltanto nel senso opposto giusto come due provvedimenti per farvi esempio il provvedimento sul mondo del lavoro la riforma del mondo del lavoro ha provocato un blocco di massa di rinnovo di contratti precari facendo schizzare la situazione giovanile io mi chiedo ma il problema in Italia è che le famiglie italiane spendono mediamente 300 euro al minimo sulla prima casa o che il 40% dei giovani non riesce a trovare lavoro e quanto è il 40% è un valore di media quindi questo significa che in alcune zone d'Italia i giovani che lo trovano la voce oltre il 50% l'altro tema l'altra riforma che anche se non sembra ha toccato i giovani e li ha penalizzati è quella delle pensioni per due motivi in altri punti perché se le persone sono costrette rimanere sul posto del lavoro e andare in pensione più tardi chiaramente è possibile per non costi di lavoro per i giovani ma poi c'è un altro motivo che è più sudolo hanno di fatto abolito per legge i nonni cioè io mi chiedo mia mamma e mio papà che andranno in pensione a 70 anni come faranno a fare i nonni o a 50 anni o i miei figli non avranno anche i nonni ecco questi sono i motivi principali che mi hanno spinto a impegnare il rottore civile mi passo a vedere pensare un anno fa quando Monti diceva vedo la luce in fondo al tour della crisi italiana purtroppo non era la luce dell'uscita ma era il treno che ci viva contro e già la nuova è la parola è la parola è la parola è la parola quindi mi chiedo di di buttare il 24 e il 25 rivoluzione civile per aiutarci a dare la speranza ai giovani e permettergli ancora di sognare grazie 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 grazie